Ciao a tutti amici delle stelle, benvenuti o ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo della settimana, settimana che va dall'8 al 14 aprile 2024. Per tutti i nuovi naviganti che approdano per la prima volta su questo canale io mi presento, mi chiamo Simone, sono un astrologo o meglio un astro coach. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le novità in uscita. Oh bene ragazzi questa è una settimana molto movimentata dal punto di vista astrologico perché si creano delle nuove configurazioni che coinvolgono tutti i segni zodiacali. Sono due gli appuntamenti nel cielo più importanti questa settimana, il primo, l'8 di aprile, la luna che diventa nuova in eclissi nel segno della righete e questa luna in eclissi chiude quel corridoio, quel portale energetico che si è aperto il 25 di marzo quando la luna è diventata piena nel segno della bilancia e chi sono i più coinvolti da questa configurazione del cielo? I segni cardinali, i segni cardinali che in questo momento sono connessi insieme all'ariete che sta festeggiando il compleanno e quindi troviamo il cancro, la bilancia e il capricorno e questa luna che diventa nuova a inizio settimana rappresenta un po' il punto di svolta per questi segni zodiacali che riusciranno da questa settimana a mettere un punto da qualche parte e a svoltare, possono trovare un punto di incontro in una fase magari difficile di negoziazione così come possono anche raggiungere un traguardo da qualche parte e quindi diventa una settimana decisiva per questi segni zodiacali. Però nel cielo avviene un altro appuntamento molto importante che è la congiunzione di Marte con Saturno nel segno dei pesci a 14 gradi in questo spazio zodiacale e quindi i più coinvolti sono i nati di seconda decade del segno dei pesci e dei colleghi dei segni mobili connessi ai pesci e quindi troviamo la vergine che è il segno opposto dei pesci e troviamo anche i gemelli e il sagittario. Ora questa congiunzione a livello di interpretazione classica rappresenta una congiunzione non bella perché i due vengono descritti come i due malefici dello zodiaco quando Marte e Saturno si incontrano, sciagure, situazioni difficili, eventi tragici. Ora questa dal mio punto di vista è una interpretazione non tanto scorretta ma obsoleta. Intanto dal mio punto di vista di malefico se qui c'è qualcosa siamo proprio noi esseri umani. Però misantropia a parte, misantropia dell'astro coach a parte. Questi due pianeti quando si incontrano è vero che sprigionano tanta energia e che possono rappresentare comunque un momento un po' sfidante, un po' rigidino ma è anche a livello di interpretazione un po' più moderna questo aspetto rappresenta proprio il coraggio, il trovare il coraggio di dire basta di non portare oltre troppo in là la situazione per il bene di tutti. Ogni riferimento a fatti, luoghi, persone, situazioni geopolitiche è puramente casuale e quindi bisogna avere anche il coraggio di ammettere le proprie colpe, di prendersi le proprie responsabilità e di dire ok adesso basta e quindi scendere in campo anche con un atteggiamento completamente diverso e come ho anche spiegato nell'oroscopo mensile di aprile da questo mese grazie anche a mercurio in retrogradazione cambierà un po' la narrazione di tante cose che ci hanno raccontato e quindi anche un po' per il bene collettivo bisogna imparare a mettere insomma la parola fine a tutti i limiti che sono insuperabili per il bene di tutti, per il bene di molti a livello personale invece sentiremo proprio forte la spinta di prendere un po' in mano le cose con il coraggio anche trovare un po' il coraggio di affrontare tutte quelle cose che ci bloccano che ci spaventano, che ci fanno paura, che ci minacciano dall'interno o dall'esterno che può essere magari quello che noi vediamo e consideriamo come un'ingiustizia come un qualcosa che ci ha penalizzato ma è anche il coraggio di mollare l'osso e di dire va bene, basta, è inutile insistere che sia un rapporto tossico, che sia un progetto che non cammina più che possa essere un'idea che ci ha tenuto compagnia per tanto tempo ma che non ha più senso portare avanti ecco che questa congiunzione libererà tanta energia che ci porterà a cambiare atteggiamento ma soprattutto a trovare il coraggio di affrontare tutte queste cose nel segno dei pesci noi troviamo anche tutti i rappresentanti religiosi e quindi di tutte le religioni e non escludo che con questa congiunzione magari qualche rappresentante possa avere delle difficoltà possa avere delle problematiche personali che deve gestire ma può anche essere un leader religioso che decide di scendere in campo di metterci la faccia e di dire e mo basta avete rotto e quindi potremmo anche vedere uno di questi personaggi che prenderà una posizione molto chiara da questa settimana quindi è una settimana molto interessante adesso andremo a vedere anche ogni segno zodiacale come e dove soprattutto cioè in quale contesto, in quale settore di vita si manifesterà di più questa nuova configurazione del cielo e come affronterà la settimana giorno per giorno facciamo insieme la panoramica dall'alto vediamo anche come sono configurati gli altri pianeti all'interno della ruota zodiacale dopodiché ci concentriamo con le previsioni segno per segno il sole si trova in questo momento nel segno dell'ariete io faccio tantissimi auguri di buon compleanno a tutti gli ariete che questa settimana si preparano a spegnere le candeline mercurio è con un moto retrogrado inserito nel segno proprio dell'ariete venere dal giorno 5 di aprile si trova nel segno dell'ariete marte si trova nel segno dei pesci giove si trova nel segno del toro saturno si trova nel segno dei pesci urano si trova nel segno del toro e nettuno si trova nel segno dei pesci e plutone invece sta transitando nel segno dell'acquario la luna questa settimana apre le danze nel segno dell'ariete e quindi diventa anche un inizio di settimana particolarmente energetico con questa luna nuova che si forma proprio nel segno dell'ariete martedì è ancora per qualche ora nel corso della mattinata nel segno dell'ariete dopodiché trasloca nel segno dei pesci dove transita tutta la giornata di mercoledì e giovedì nella mattinata esce dal segno del toro per entrare in quello dei gemelli dove sosta per tutta la giornata di venerdì e fino a sabato nel pomeriggio dopodiché trasloca nel segno del cancro dove transita anche per tutta la giornata di domenica e quindi non perdiamo altro tempo andiamo a vedere come saranno le stelle della settimana segno per segno parliamo del segno dell'ariete o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale è una settimana molto dinamica quella che si crea da questa settimana e per certi versi vi può aiutare anche a raggiungere dei traguardi molto importanti perché la luna che diventa nuova in eclissi proprio il giorno lunedì 8 può rappresentare anche la spinta di tutti i nuovi inizi che avete incominciato a scorgere proprio con l'inizio del compleanno quando il sole è entrato in ariete alla fine di marzo e quindi vi sentirete particolarmente motivati, stimolati e questo vi aiuterà ad andare incontro allo sviluppo di nuovi progetti ma anche a raggiungere dei traguardi importanti di tutto quello che è già in cantiere e proprio le giornate di lunedì e di martedì saranno quelle tra le più importanti di questa settimana dove avrete la possibilità di mettere un punto da qualche parte e di svoltare ma anche di ricevere dei feedback positivi che vi proiettano all'interno di un nuovo circuito perché di fatto incomincia proprio il vostro vero viaggio dopo l'inizio del compleanno e quindi diventa molto importante questa settimana per le trattative che sono in corso ma anche per tutte le idee nuove da sviluppare e scendere in campo per mettere a posto anche tutte quelle cose che devono essere sistemate per quanto riguarda invece la congiunzione di Saturno e di Marte che si verifica nel segno alle vostre spalle sentirete forte il bisogno di dire basta a tutto quello che è diventato tossico per voi può essere magari un rapporto di tipo professionale ci può essere anche la famiglia ma tutto quello che rappresenta anche un po' i vostri limiti che sono insuperabili o i limiti insuperabili degli altri cioè basta insistere perché mi sono accorto o accorta che in quella direzione non andiamo da nessuna parte quindi è inutile insistere, è inutile continuare a inserire un po' del liquido in un bicchiere che è bucato e quindi cambierete molto l'atteggiamento da questa settimana nei confronti di tutto quello che soprattutto è diventato per voi troppo tossico le lunedì e martedì come vi dicevo la luna si trova nel vostro spazio zodiacale porta tutto nella vostra direzione quindi se dovete fare delle proposte, se dovete scendere in campo se dovete prendere delle decisioni sono giornate meravigliose proprio per fare questo tipo di discorso un po' diverse saranno invece le giornate di martedì già nel tardo pomeriggio tutto mercoledì è la primissima parte della giornata di giovedì quando la luna transita nel segno del toro quelle sono giornate dove vedremo un ariete un po' più lento un po' più goffo che magari fa anche un po' di fatica a sintonizzarsi con le frequenze esterne e quindi si ritroverà un po' fuori tempo un po' rigido, un po' impastato ma sono le giornate che poi vanno da giovedì nella tarda mattinata tutto venerdì soprattutto e anche la prima parte della giornata del sabato che vi daranno uno slancio incredibile che vi aiuteranno a recuperare tutto quello che magari avete trascurato nelle giornate precedenti e in quelle giornate c'è anche la possibilità di ricevere un ulteriore feedback un'ulteriore risposta se state aspettando e state aspettando di ricevere delle comunicazioni o se avete fatto delle richieste ecco che in quelle giornate vedrete accolte anche le vostre richieste sono giornate però anche che vi portano a stretto contatto con quella congiunzione tra Marte e Saturno e quindi per certi versi comincerete a investire meno su tutte quelle situazioni che stanno diventando un po' dei limiti insuperabili e o che in qualche modo vi portano lontano da voi da quelle che sono le vostre priorità e cambierete completamente atteggiamento nel fine settimana la luna invece trasloca nel segno del cancro e sarà un fine settimana da dedicare agli affetti alla famiglia dove passerete anche un po' al setaccio tutti i ricordi della vostra memoria familiare le foto la vostra infanzia potreste anche ripercorrere i luoghi di infanzia proprio nel fine settimana e parliamo di rapporti e di sentimenti perché con Venere nel vostro spazio zodiacale adesso non si fanno più sconti non si fanno più regalie a nessuno per niente e per nessuno e questo vi porterà anche un po' a cambiare atteggiamento nei confronti di tutte quelle relazioni che non sono relazioni che non stanno andando da nessuna parte e Venere nel vostro spazio zodiacale vi porterà a prendere delle decisioni decisioni che metterete in campo o a inizio settimana o verso la fine di questa settimana ma per le coppie che durano e che quindi e che non hanno problemi questa Venere nel segno dal calcio d'inizio allo sviluppo e alla realizzazione di progetti molto importanti tra cui ci vedo anche il discorso casa o comunque lavorare a un progetto in condivisione con il partner e per chi è da poco in un rapporto con questa Venere si può sia ufficializzare così come possono prendere forma quelle prime conferme importanti che vi porteranno a strutturare e a consolidare meglio il rapporto a due single occhi aperti all'orizzonte soprattutto nella prima parte di questa settimana quindi nelle giornate di luna nuova e poi ancora verso la fine della settimana perché questa Venere accende i riflettori su di voi vi rende estremamente visibili affascinanti seduttivi e questo vi può aiutare a crearvi delle connessioni molto interessanti con persone nuove o a ripescare qualche vecchia conoscenza fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno del toro per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale la congiunzione di Marte e Saturno nel segno della riete porta il nostro toro a investire nuove risorse in nuovi progetti molto più allineati a lui al proprio il concetto anche di cambiamento e di trasformazione alla luce di tutti i cambiamenti che ha subito e ha gestito nel corso degli ultimi anni e sono soprattutto gli ultimi mesi che hanno mostrato al nostro toro quali sono le nuove priorità ma anche i nuovi progetti su cui investire e nuovi orizzonti da esplorare e questa settimana sentirete un risveglio molto potente un qualcosa che vi fa saltare dalla sedia che fa saltare anche il tappo e quindi che vi porta a scendere in campo con un atteggiamento completamente diverso se si parla invece di collaborazioni che già esistono metterete proprio sotto revisione da questa settimana tutti quei rapporti tutte quelle tutte quelle cose condivise tutti quei progetti condivisi con altre persone che non stanno più partendo che non vi portano ad avere delle garanzie e quindi mi riferisco soprattutto a chi ha una libera professione a chi magari ha subito dei soprusi da parte di un collega di un responsabile da parte di un capo o da parte di chi semplicemente vi dà lavoro e quindi può essere un collaboratore può essere un socio può essere un fornitore e quindi da questa settimana innescherete proprio dei meccanismi anche di difesa che vi porteranno a dire no basta adesso bisogna devo cambiare qualcosa perché questo qualcosa non funziona più per me e grazie anche alla luna che diventa nuova nel segno dell'ariete in eclissi vi aiuterà proprio questa luna a ridistribuire meglio pesi e misure e aiutandovi proprio a disinvestire anche in tutte quelle situazioni che non vi portano non solo da nessuna parte ma anche in tutti quei rapporti che chiedono senza dare nulla in cambio e quindi è una settimana molto importante per il nostro toro che incomincerà a scendere in campo con un atteggiamento completamente diverso le prime giornate della settimana le giornate di lunedì e qualcosina anche nella giornata di martedì possono essere ancora un po' faticose dal punto di vista soprattutto energetico perché la luna che diventa nuova nel segno alle vostre spalle può disturbare il vostro sonno può disturbare le vostre performance rendendovi magari un po' più ammaccati un po' più stanchi un po' più fragili o un po' più spossati però poi dopo queste due giornate che saranno anche un po' caotiche nell'organizzazione nella pianificazione magari di alcune cose che avevate già in agenda ecco che martedì soprattutto nel pomeriggio sentirete una ventata d'aria nuova grazie alla luna che rompe nel vostro spazio zodiacale e questo vi aiuterà ad avere anche le idee molto più chiare ma soprattutto a prendere in mano il controllo di tutte le cose e quelle sono giornate molto importanti quelle che vanno da martedì nella tarda mattinata tutto mercoledì soprattutto è la prima parte della giornata di giovedì nella giornata di mercoledì potreste ricevere delle proposte potreste valutare delle cose nuove che racchiudono enorme potenziale e grandi opportunità da cogliere se dovete fare delle richieste se dovete smuovere delle cose se dovete lavorare d'anticipo su alcune situazioni utilizzate queste giornate perché sono particolarmente interessanti giovedì nella tarda mattinata tutto venerdì e la prima parte del sabato sono giornate dettate dalla presenza della luna nel segno dei gemelli queste sono le famose giornate che vi dicevo che vi porteranno a rivedere meglio degli accordi a rivedere meglio i rapporti a rivedere da vicino tutto quello che viene condiviso tutto quello che in qualche modo rappresenta anche un po' il vostro sforzo a senso unico e quindi se avete investito troppo in un progetto se in un progetto state lavorando solo progetto condiviso state lavorando solo ed esclusivamente voi e gli altri campano grazie al vostro aiuto quelle sono giornate dove metterete in chiaro delle cose cambiando proprio atteggiamento e assumendo un atteggiamento iper protettivo nei vostri confronti in quelle giornate c'è anche la possibilità di ricevere un aiuto economico di ricevere un compenso economico anche per alcune questioni molto vecchie e quindi se ci sono delle vecchie fatture che dovete saldare se ci sono dei vecchi crediti che dovete riscuotere quelle sono giornate molto interessanti bellissimo il fine settimana con la luna di transito nel segno del cancro nonostante le apparenze magari potreste sentirvi non del tutto sicuri di fare quella cosa proprio nel fine settimana perché magari che ne so la famiglia i doveri le responsabilità vi portano a dover gestire delle cose delle responsabilità o far visita a qualcuno durante il fine settimana ma nonostante tutto trascorrerete proprio un weekend molto piacevole pur facendo anche quelle cose che non vi accendono proprio l'entusiasmo e vi accorgerete di come le persone attorno a voi che possono essere amici possono essere parenti vi staranno vicino e vi daranno una conferma parliamo di rapporti e di sentimenti venere si trova nel segno alle vostre spalle dal giorno 5 di aprile e questa settimana la presenza anche della luna nuova nel segno della riete incomincia a mostrare al nostro toro tutti quei rapporti che non sono più rapporti che non vanno più nella stessa direzione e vi accorgerete magari anche dove il partner fa fatica a starvi dietro non riesce a supportarvi come si deve per x motivi perché magari o voi siete intrattabili o il partner ha tanti problemi e quindi comunque dedicarsi anche alla soluzione di queste problematiche vi accorgerete proprio di come non si riesca a fare un gioco di squadra da questa settimana e lo farete notare soprattutto all'inizio settimana e verso la fine ma se parliamo invece di coppie che comunque stanno bene sono salve e solidissime ecco che incominciano a prendere forma da questa settimana delle situazioni che vi parlano proprio di costruzione di progetti più sicuri più stabili da realizzare nel tempo e che devono portare più garanzie e quindi vi vedremo al lavoro con un atteggiamento completamente diverso da questa settimana single mi raccomando attenzione perché potreste con questa venere nel segno alle spalle attirare qualche sola ma siccome da questa settimana vi accorgerete anche grazie al vostro radar di quello che non vi appartiene più o dove state investendo male riconoscerete da subito quelle dinamiche che vi portano ad attirare persone che hanno solo bisogno di essere aiutate e che non danno niente in cambio o che non sono proprio persone regolari e che non sanno quello che vogliono che vi faranno solo perdere del tempo e quindi sarete ipercritici e iperselettivi da questa settimana fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollici in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno dei gemelli o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale i gemelli da questa settimana si ritroveranno le spinte importantissimi che si generano grazie a questa luna in eclissi nel segno dell'ariete e che proprio invita i nostri gemelli a proiettarsi in questi nuovi orizzonti da esplorare o a lavorare molto intensamente nello sviluppo di nuovi progetti da realizzare soprattutto nel futuro e la spinta lo slancio verso il futuro è proprio il comune denominatore dove possono anche attivarsi dei poteri dei talenti delle ambizioni che avevate messo da parte o che proprio non avevate la benché minima idea che potessero esserci da qualche parte queste ambizioni queste cose nuove da esplorare che vi coinvolgono tantissimo allo stesso tempo però nel cielo nel punto più alto del vostro cielo nel segno dei pesci si forma anche una congiunzione tra Marte e Saturno che farà detonare delle cose che vi porteranno poi a dire basta basta soprattutto ai soprusi basta alle ingiustizie soprattutto se state subendo delle dinamiche poco gradevoli o in ambito familiare o in ambito professionale mi riferisco soprattutto a chi ha a che fare magari con un capo che non è molto registrato o a delle o a dei colleghi che sono diventati tossici o a delle dinamiche che sono diventate tossiche e quindi in questa settimana vedremo un gemelli cambiare completamente atteggiamento e scendere in campo per mettere in chiaro anche delle cose ma soprattutto di affrontare a muso duro tutte quelle situazioni che rappresentano un po' un ostacolo che vi impedisce di andare incontro alla vostra affermazione e soprattutto troverete il coraggio di dire basta a qualcosa che non vi piace più o nella quale non vi riconoscete più perché non vi appartiene più e di andare incontro a qualcosa di nuovo qualcosa di diverso e quindi diventa anche un momento molto potente di risveglio interiore che vi fa alzare le chiappe dalla sedia trovando il coraggio di dire basta stop la settimana incomincia con questa luna di transito nel segno dell'ariete dove diventa nuova proprio nella giornata di lunedì 8 si chiude un po' quel corridoio energetico che si è aperto il giorno 25 di marzo quando la luna è diventata piena nel segno amico della bilancia e quindi termina quella fase anche di risveglio che ha un po' il compito di spingervi verso il futuro cercando di investire anche sulle proprie capacità sui propri talenti nell'andare a sviluppare i vostri nuovi interessi e sono giornate anche quelle di lunedì e di martedì la prima parte della giornata di martedì dove potreste fare fare colpo e quindi anche attirare un po' l'attenzione su alcune dinamiche su un progetto nuovo su richieste che avete fatto e quindi avrete anche una maggiore visibilità che vi aiuterà a cogliere delle opportunità in serbo per voi se parliamo di progetti condivisi se parliamo di idee nuove da sviluppare quelle sono giornate estremamente importanti le giornate invece che vanno da martedì nella tarda mattinata tutto mercoledì e anche la prima parte della giornata di giovedì saranno un po' o sottotono o stressanti dal punto di vista proprio della gestione del tempo delle scadenze le consegne le richieste invadenti da parte degli altri e queste giornate innescano qualcosa che vi porterà poi tra giovedì pomeriggio tutto venerdì soprattutto e la prima parte del sabato a ribellarvi a tutto quello che non vi appartiene più tutto quello che rappresenta un ostacolo perché poi da giovedì la luna irrompe nel vostro spazio zodiacale porta tutto nella vostra direzione e lì vi aiuterà a cambiare atteggiamento ma anche a far saltare tutti i tappi che devono essere tolti da alcune dinamiche che non vi tornano e quindi se avete subito delle ingiustizie se avete subito dei sopprusi se avete avviato delle questioni anche magari legali per difendervi ecco che quelle sono giornate che possono portare anche la soluzione a tutte queste problematiche ma soprattutto sentirete forte il desiderio di ribellarvi da tutto quello che viene imposto dall'alto e che per voi è ingiusto o che vi porta lontano da quello che siete davvero in questo momento alla luce di tutti i cambiamenti e tutte le evoluzioni che avete fatto con Saturno proprio nel segno dei pesci potreste anche raggiungere in quelle giornate dei traguardi molto importanti e ambiziosi per cui avete investito tanto e speso tanto energeticamente nell'arco degli ultimi sei mesi per quanto riguarda invece il fine settimana la luna che lascia il vostro spazio zodiacale nella giornata di sabato nel tardo pomeriggio per entrare nel segno del cancro e quindi poi anche tutta la giornata di domenica sarà in cancro ecco che da questa ecco che questo fine settimana sarà da dedicare un po' al riposo al fare spazio interiore al riorganizzarvi un po' le idee ma sentirete proprio un forte richiamo alla solitudine allo stare un po' per i fatti vostri a dedicare magari anche più tempo ai vostri interessi e hobby per quanto riguarda il discorso sentimenti venere che dal 5 di aprile è uscita finalmente dalla quadratura per entrare nel segno amico dell'ariete parla di un grande momento in coppia dove si può realizzare qualcosa di importante dove vi sentite più coinvolti anche emotivamente fisicamente sentite un nuovo trasporto emotivo nei confronti del partner un partner che finalmente riesce anche a supportarvi ad essere il vostro sponsor ufficiale e tutto quello che ha a che fare un po' con la costruzione e la realizzazione di progetti importanti da realizzare nel futuro diventa un po' il comune denominatore del momento e tutto quello che ha a che fare anche un po' con le amicizie da riprendere le iniziative che possono coinvolgere voi il partner e gli amici sono un'ottima base di lancio per ripartire con leggerezza per quanto riguarda il discorso single occhi aperti all'orizzonte questa venere è anche molto malandrina perché può portare sul vostro cammino delle persone che vi faranno provare delle emozioni inaspettate quindi si può si può parlare di un gemelli che si accorge di provare qualcosa di più per una persona che è sempre stata nel panorama e nel nel settore delle amicizie e quindi può cambiare di destinazione d'uso un'amicizia così come può arrivare qualcuno di nuovo che prende tanto spazio e che vi fa cambiare piacevolmente i vostri piani e le giornate di lunedì di martedì e poi ancora giovedì e venerdì saranno quelle più feconde per fare incontri fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno del cancro per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale il cancro è due volte protagonista questa settimana in due modi completamente diversi la luna che diventa nuova nel segno dell'ariete chiude quel portale che si è aperto il 25 di marzo e che porta il nostro cancro a legittimarsi a scendere in campo per raggiungere dei traguardi importanti e quindi anche per incominciare a tracciare una rotta ben precisa per raggiungere questi traguardi ambiziosi soprattutto in ambito professionale ma con questa luna che diventa nuova nella giornata di lunedì ci vedo anche il mettere un po' un punto da qualche parte per svoltare quindi si può parlare della fine di alcune problematiche di tipo personale familiare si può raggiungere trovare un accordo se avete avuto delle problematiche o anche per quelli che hanno avuto magari delle problematiche connesse alla casa e non con la famiglia e quindi ci possono essere veramente da questa settimana delle novità importanti che vi aiutano a raggiungere dei traguardi e a risolvere dei problemi il tutto condito anche da una retrogradazione di mercurio quindi magari non sono risposte ufficiali non mettete da subito la parola a fine però vi accorgerete di come l'andamento sta cambiando e di che tipo di piega nuova prenderanno le cose da questa settimana e quindi si può parlare anche di anticipazioni che portano la parola che segnano un po' la parola a fine a tutte quelle problematiche che state gestendo se parliamo invece di di lavoro con questa luna c'è la possibilità di ottenere degli incarichi nuovi di maggiore responsabilità di maggiore prestigio o di vedere accolte le proprie richieste che avete fatto ma è anche la congiunzione di Marte e Saturno nel segno amico dei pesci che questa settimana ruberà la scena e vi renderà due volte protagonisti perché questa potentissima congiunzione vi stimola dal punto di vista anche personale nell'andare alla ricerca di un qualcosa nella quale vi riconoscete di più e quindi si può parlare di finalmente intraprendere un'azione con coraggio di scendere in campo per affermarsi ma anche per finalmente trovare il coraggio di prendere una decisione di fare una scelta più allineata al vostro concetto di trasformazione e quindi penso anche a quei cancro che in questo momento si stanno guardando un po' attorno e che sentono la necessità magari di cambiare lavoro ma per x motivi hanno paura a guardarsi un po' attorno perché magari sono passati troppi anni e quindi ci sono delle implicazioni molto più più grandi in termini anche emotivi che non vi consentono magari di guardarvi attorno con fiducia e con leggerezza ed ecco che questa settimana troverete anche un po' il coraggio di rompere le righe di uscire un attimo dalle righe e di cercare qualcosa di più invitante per voi ottimo questo momento per incominciare a investire oggetto ambizioso da realizzare ma anche di incominciare a investire nelle proprie capacità sulle proprie capacità e quindi un corso tutto quello che ha a che fare un po' con lo studio il riprendere in mano gli studi ecco che questa potentissima congiunzione vi aiuterà a trovare la strada e a intraprendere più che altro la strada con più coraggio rispetto a prima e quindi sentirete forte delle spinte da questa settimana che saranno molto importanti le giornate di lunedì e di martedì sono quelle caratterizzate dalla luna che diventa nuova nel segno dell'ariete almeno fino a martedì mattina poi la luna esce dal segno dell'ariete per entrare nel segno del toro e quindi le due giornate a inizio settimana sono le più importanti per ricevere delle notizie raggiungere dei traguardi importanti o vedere finalmente aprirsi quella porta che vi porterà poi a raggiungere quei traguardi le giornate invece di martedì nella tarda mattinata tutto mercoledì e la primissima parte della giornata di giovedì sono molto interessanti per incominciare a proiettarsi nel futuro molto interessanti anche per collaborare con altre persone sviluppare nuovi progetti ma anche per incominciare a captare un po' quei segnali che vi invitano ad andare incontro a queste nuove cose da realizzare per voi e in quelle giornate peraltro potrebbe manifestarsi nella vostra vita un professionista un personaggio che vi aiuta a risolvere un problema che vi ha portato via parecchio tempo poi però giovedì nella tarda mattinata tutto venerdì e la primissima parte della giornata del sabato saranno molto caotiche dal punto di vista energetico come giornate e quindi spenderete moltissime risorse nel tenere le cose in equilibrio ma anche nel portare a termine i vostri progetti vi accorgerete proprio di arrivare a sabato con la lingua sotto i piedi ma è poi con il fine settimana grazie alla luna che irrompe nel vostro spazio zodiacale che prenderete in mano le redini della situazione quindi avrete maggiore controllo anche delle emozioni e avrete la possibilità di vivere un fine settimana molto bello anche dal punto di vista delle connessioni che si possono creare nel fine settimana e le esperienze che farete perché è possibile che farete un piccolo viaggetto fuori porta o che andrete in visita a delle persone e trascorrerete dei piacevolissimi momenti che vi faranno sentire molto bene per quanto riguarda il discorso sentimenti se parliamo di coppie che funzionano allora questo è un momento importantissimo per costruire su basi più solide ma anche per avere un progetto in comune con il partner e quindi incominciare a scorgere quali sono quelle cose da realizzare anche molto ambiziose se si può parlare di traslochi di casa di cambiamenti ma anche per fare un gioco migliore di squadra con il partner per affrontare magari alcune problematiche insieme per fare proprio squadra se parliamo invece di coppie che non funzionano ecco che questa quadratura di venere nel segno della riete vi porterà ad avere una maggiore freddezza un maggiore rigore nei vostri confronti cosa che vi porterà anche un po' ad allontanarvi e a disinvestire emotivamente in tutte quelle situazioni che non stanno più funzionando prendendo delle decisioni importanti se invece siete single con questa venere c'è un'altissima probabilità che nel lavoro entrino dei nuovi personaggi che possono in qualche modo rubare la vostra attenzione e quindi mi raccomando attenzione ai rapporti che possono nascere in questo momento soprattutto in ambito professionale perché dal mio punto di vista questi rapporti o hanno le gambe corte oppure molto presto presenteranno un conto da pagare allo stesso tempo però possiamo parlare di single che non si sentono ancora del tutto pronti che hanno troppe cose a cui badare in questo momento e quindi non si sentono aperti e disponibili e questo durerà ancora per tutta questa settimana e poi verso la fine del mese quando venere lascerà lo spazio zodiacale della riete allora si può parlare di nuovi inizi importanti fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollici in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno del leone o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale questa è una settimana da effetto wow per il nostro leone per due motivi il più importante è la luna che diventa nuova ed è una luna potentissima in eclissi che si forma nel segno amico della riete e quindi inizierete la settimana con un'ondata di energia anche positiva dove vi sentirete grintosi con la voglia di fare la voglia di conoscere la voglia di sviluppare vi sentirete proprio emotivamente benissimo e anche fisicamente molto più performanti rispetto a prima e questa luna nella giornata di lunedì 8 chiude anche un po' quel portale che si è aperto il 25 di marzo quando la luna è diventata piena nel segno della bilancia e quindi ci sarà la possibilità questa settimana per voi di portare a termine una trattativa magari che si è aperta nel corso delle ultime settimane nelle proposte nelle candidature nei colloqui e se dovete sostenere degli esami se dovete sostenere dei colloqui a inizio settimana farete un figurone eccezionale e questa cosa vi può aprire delle porte molto interessanti soprattutto nel lavoro ma è la scelta il comune denominatore di questa settimana perché incomincerete a scorgere avete incominciato a scorgere dei nuovi orizzonti e sentite forte la spinta verso il cambiamento nell'andare a intraprendere qualcosa di nuovo e quindi per certi versi questa luna vi dà le ultime indicazioni importanti per cambiare di destinazione d'uso alla vostra vita se ci sono delle cose che non vi piacciono più e quindi diventa una settimana molto interessante soprattutto anche dal punto di vista emotivo dove dovrete imparare a scorgere meglio i segnali ad avere più fiducia anche nelle vostre intuizioni e quindi utilizzate anche la pancia o il sesto senso proprio nelle prime due giornate di questa settimana l'altra invece configurazione che si crea con la congiunzione di Marte e di Saturno nel segno dei pesci ci parla invece di una questione o burocratica o economica che magari vi ha perseguitato nel corso degli ultimi anni e avrete così da questa settimana il permesso di mettere un po' la parola fine ma anche di dire basta di rivoluzionare un po' il vostro concetto di spese ad esempio penso a quelli che hanno tanti finanziamenti e quando arriva lo stipendio praticamente sparisce tutto subito penso a chi è molto appesantito che magari sta aiutando delle persone attorno a lui il leone molto generoso sotto questo punto di vista quindi potrebbe essersi preso a cuore una situazione e aiutare anche segretamente qualcuno ma questa settimana vi accorgerete che sentirete forte dentro di voi il bisogno di dire basta a un qualcosa ed è un qualcosa che ha a che fare o con la gestione finanze o che ha a che fare con la vostra disponibilità nell'aiutare magari qualcuno e quindi cambierete anche atteggiamento in questo senso le giornate più importanti sono proprio quelle di lunedì e le prime ore della giornata di martedì quindi sono valide o sono ottime proprio per sostenere esami colloqui per fare richieste o per vedere accolte le vostre richieste così come si possono aprire delle porte molto interessanti nei negoziati e nelle trattative a inizio settimana le giornate invece di martedì nella tarda mattinata tutto mercoledì soprattutto e la primissima parte della giornata di giovedì saranno invece dettate dalla quadratura della luna sono giornate un po' rigidine dove le responsabilità i lavori in scadenza tutto quello che ha a che fare con i doveri prenderà un po' il controllo e il sopravvento in quelle giornate ma non sottovalutate il potere di questa luna perché non escludo che si possano verificare delle situazioni in quelle giornate che vi portano a sovraccaricarvi di responsabilità ma anche a mostrare agli altri qual è il vostro valore e quindi potreste sfruttare a vostro vantaggio un'occasione da cogliere in ambito professionale che vi consentirà di emergere di farvi notare di far vedere quanto siete bravi le giornate però più interessanti oltre alle giornate di inizio settimana saranno quelle che vanno da giovedì pomeriggio tutto venerdì e la primissima parte del sabato grazie alla luna di transito nel segno dei gemelli quelle sono giornate molto interessanti per fare delle esperienze in condivisione con altre persone che non solo allargano gli orizzonti ma che vi fanno sentire parte di un gruppo di una tribù di una squadra e quindi ottimo lo sviluppo di progetti in condivisione sono giornate anche molto interessanti per pianificare qualcosa nel futuro con gli amici ma anche per dedicarsi alle proprie passioni ai propri agli interessi agli hobby queste giornate vi aiuteranno tantissimo a intercettare delle cose con largo anticipo rispetto rispetto agli altri e quindi avrete un po' l'occhio più lungo nel fine settimana la luna transita nel segno del cancro e quindi ci vuole un po' di riposo verso la seconda metà della giornata del sabato e soprattutto nella giornata di domenica quando potreste sentire anche forte il bisogno di isolarvi di stare un po' da soli a contemplare delle cose per quanto riguarda invece il discorso sentimenti venere che adesso vi supporta dal segno amico dell'ariete ci parla proprio di un momento importante di costruzione nei rapporti ma anche di direzioni da prendere nei rapporti e quindi se parliamo di coppie che sono nate da poco farete delle esperienze molto belle che andranno a consolidare ancora di più il rapporto ma si può parlare anche di pianificazione di progetti importanti da realizzare nel futuro ci possono essere dei traslochi si può parlare di vacanze da pianificare nel corso del prossimo futuro e quindi è un momento davvero importante di grande ripresa e di grande coinvolgimento che riaccende un po' le speranze anche per le coppie che sono arrivate molto appesantite e stanche reduci magari da un inverno molto difficile per quanto riguarda invece il discorso single occhi aperti all'orizzonte perché questo è un momento davvero importantissimo soprattutto per i più giovani perché possono fare delle esperienze davvero importantissime e possono provare magari per la prima volta delle emozioni molto forti per qualcuno ma anche per chi non è più giovane c'è la possibilità di che si inneschi una relazione che si inneschi una relazione o che si possa creare una connessione molto potente con una persona che non fa parte magari del vostro circondario e quindi che non è proprio nel vostro raggio d'azione e che può arrivare magari anche da lontano può essere magari una conoscenza fatta attraverso l'uso di applicazioni di social network può anche essere una persona che incontrerete in un piccolo spostamento di lavoro un viaggio è qualcosa però di molto potente e le giornate a inizio settimana e soprattutto quelle di giovedì e di venerdì vi aiuteranno parecchio a fare colpo fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno della vergine o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale dunque questa è una settimana molto importante perché vi vedrà tra i protagonisti di questa potentissima congiunzione che avviene tra Marte e Saturno in opposizione nel segno dei pesci e so già che molti di voi si metteranno una mano davanti e una di dietro perché arriverete magari anche spaventati o siete spaventati da questa congiunzione tra i due pianeti in realtà questa potentissima congiunzione non farà nient'altro che fungere da detonatore portandovi a scendere in campo con un atteggiamento completamente diverso e dire basta a tutti quei sopprusi a tutte quelle situazioni che state subendo soprattutto nei rapporti con gli altri e può essere magari nel lavoro nei rapporti interpersonali nei rapporti d'amicizia in tutte quelle situazioni che vi hanno un po' messo anche di fronte a delle prove da superare e che adesso avete anche un po' il coraggio di intraprendere e quindi vedremo una vergine che farà saltare un po' il tappo in alcune dinamiche che devono essere cambiate e da questa settimana non tratterrete più niente anche perché grazie a questa luna che diventa nuova nel segno amico dell'ariete avrete come due occhi in più che vi consentiranno di vedere che cosa c'è nascosto sotto la superficie e molti saranno gli altarini nascosti che emergeranno portandovi così ad avere ancora di più il bisogno e l'urgenza di scendere in campo e di mettere a posto tutte quelle cose se avete intrapreso delle azioni legali ecco che da questa settimana ci possono essere delle importanti novità che ribaltano completamente la situazione portandovi a ottenere anche dei vantaggi se le cose siano un po' complicate o messe o messe male ma avrete anche la possibilità di mettere in chiaro una volta per tutte le vostre condizioni le vostre nuove regole del gioco e la vostra disponibilità fino ad un certo punto entro in certi confini e questo vi aiuterà anche a tracciare una bella linea di demarcazione tra voi e gli altri e questa settimana ci sono anche delle importantissime novità per quanto riguarda una questione economica che può essere chiusa portandovi ad ottenere dei vantaggi anche dal punto di vista economico se dovete riscuotere qualcosa la settimana incomincia con questa luna che diventa nuova nel segno dell'ariete e nella giornata di lunedì si chiude quel portale che si è aperto il 25 di marzo quando la luna è diventata piena nel segno della bilancia ed ecco che tra lunedì e martedì mattina c'è la possibilità di chiarire qualcosa di mettere in chiaro delle cose ma anche di ottenere delle conferme di tipo economico e quindi di chiudere finalmente la partita in una lunga trattativa che vi ha generato un po' di inquietudine se avete fatto delle richieste in ambito burocratico se avete gestito delle situazioni nella gestione finanze per quanto riguarda la gestione finanze ecco che ci sono delle soluzioni nuove che entrano in campo proprio a inizio settimana le giornate di martedì nella tarda mattinata tutto mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì saranno invece dettate dal transito della luna nel segno amico del toro e quelle sono giornate molto importanti per chi deve sostenere degli esami o dei colloqui e se vi state guardando attorno sono anche ottime le giornate per candidarsi agli annunci di lavoro e fare anche delle esperienze che vi aiuteranno a scorgere dei nuovi orizzonti da esplorare le giornate però che vanno da giovedì nella tarda mattinata tutto venerdì soprattutto e la prima parte della giornata del sabato saranno invece dettate dalla quadratura della luna nel segno dei gemelli ora quelle sono proprio le giornate dove saltano un po' i tappi dove sentirete forte il bisogno di mettere in chiaro delle cose ma anche di reagire davanti a tutte quelle situazioni che state subendo ingiustamente e così vedremo una nuova vergine scendere in campo proprio per incominciare a mettere a posto delle cose ma soprattutto a dire basta a tutte queste situazioni che non vanno più bene per voi soprattutto nei rapporti e nei progetti condivisi il fine settimana però è molto piacevole grazie alla luna di transito nel segno del cancro avrete un po' la tendenza magari a spendere un po' di più del previsto ma è molto interessante sarà piacevole però per quanto riguarda le amicizie e organizzare magari qualcosa anche fuori porta fare qualcosa di non convenzionale proprio nel weekend per quanto riguarda il discorso sentimenti la presenza di venere nel segno dell'ariete vi porta se siete in coppia a sentire forte il bisogno di rompere delle rigidità che si sono create nel rapporto a due quindi di fare qualcosa di diverso di nuovo di coinvolgente ma si parla anche di trovare una passione in comune con il partner e una volta che l'avete trovata si riaccende completamente il luna park del divertimento per quanto riguarda invece le coppie che non sono coppie quindi sono un po' in bilico o che magari si parla di rapporti extra ecco che in questa fase con venere si può parlare di prove da superare che portano un po' di insofferenza in queste relazioni che non sono ancora delle relazioni vere per quanto riguarda invece i single si parla di un momento molto interessante per i divertimenti con questa venere e non escludo che tutto quello che può nascere sotto le lenzuola in queste prossime settimane cambierà di destinazione d'uso tra verso la fine del mese e a inizi di maggio fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno della bilancia o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale la bilancia da questa settimana mette un punto da qualche parte e incomincia a svoltare cambia completamente atteggiamento e tutto quello che ha a che fare un po' con progetti da realizzare i rapporti la disponibilità della bilancia che ha nei confronti degli altri verranno proprio completamente rivisti e questo vi aiuterà a scendere in campo con un atteggiamento completamente diverso è ottima questa luna che diventa nuova in opposizione nel segno dell'ariete per portare a termine una trattativa molto sofferta e molto lunga ma anche per vedere accolte le vostre richieste si possono concludere dei rapporti anche di lunga data di tipo professionale di tipo affettivo affinché si possa liberare tutta quella energia che è rimasta intrappolata e si può parlare anche di nuovi inizi importanti e quindi non escludo che tutto quello che verrà chiuso e terminato questa settimana è perché poi si aprirà per voi una porta molto più interessante e il cielo vi spingerà esattamente dove dovete andare per ottenere quello che vi spetta una bilancia che finalmente rimette un po' a posto le cose che l'hanno mandata in disequilibrio nel corso delle ultime settimane e per quanto riguarda invece la congiunzione di Marte con Saturno nel segno dei pesci vedremo una bilancia che dirà basta a tutte quelle situazioni che stanno portando la bilancia a spendersi gratuitamente senza avere niente in cambio e questo vale nelle collaborazioni nei progetti condivisi a livello professionale penso magari alla bilancia che è super disponibile nei confronti degli altri a coprire sempre il turno della persona che manca a prendersi delle responsabilità e questo la porterà a non aver più paura di dire no perché sentirà un forte bisogno di tornare a se stessa e quindi di mettere un po' anche in chiaro qual è il proprio ruolo nel mondo entro e non oltre tracciando dei confini e questo vi aiuterà tantissimo a mostrare un atteggiamento completamente diverso che vi porterà ad ottenere dei vantaggi rispetto al vecchio atteggiamento troppo disponibile e anche e questa congiunzione vi aiuterà a dire basta anche alle cattive abitudini a tutto quello che vi sta intossicando anche dal punto di vista energetico e psicofisico e quindi potreste anche trovare iniziare magari una cura nuova iniziare uno sport iniziare una dieta un qualcosa che vi aiuterà a riprendere un po' in mano il concetto del vostro benessere la settimana si apre con una luna in opposizione che diventa nuova nel segno dell'ariete e quindi le prime giornate della settimana sono molto importanti per le trattative per tutto quello che dovete portare a conclusione a termine ma si può anche parlare di proposte nuove che creano nuovo movimento e che vi porteranno a cambiare le cose se dovete fare delle richieste o se avete fatto delle richieste quelle sono giornate molto importanti che vi portano delle anteprime delle conferme ma che possono anche aiutarvi a rilasciare nel cosmo un'ottima firma energetica che vi tornerà particolarmente utile sempre in questa settimana le giornate invece di martedì nella tarda mattinata tutto mercoledì è la primissima parte della giornata di giovedì saranno dettate dal transito della luna nel segno del toro e quelle sono giornate dove avrete un po' l'umore dark dove vi sentirete magari un po' emotivamente troppo coinvolti o ci sono delle cose che vi portano ad avere dei pensieri un po' cupi soprattutto per quanto riguarda il discorso finanze ma non traete delle conclusioni affrettate ma soprattutto non fermatevi al primo no o al primo preventivo che vi mettono sotto il naso perché tutte queste situazioni possono cambiare e quindi non vi dovete fermare al primo ostacolo le giornate più interessanti saranno quelle della luna di transito nel segno dei gemelli da giovedì pomeriggio tutto venerdì e la prima parte del sabato con questa luna avrete la possibilità di vedere accolte le richieste che avete fatto a inizio settimana farete delle esperienze molto importanti e sono molto importanti come giornate per chi deve sostenere degli esami o dei colloqui e non escludo che proprio in quelle che proprio in quelle giornate sentirete forte il bisogno di benessere di allontanarvi energeticamente da tutto quello che vi sta inquinando che vi sta facendo ma proprio anche ammalare dal punto di vista energetico e psicofisico nel fine settimana la luna transiterà invece nel segno del cancro e con questa quadratura sentirete proprio forte il bisogno di rallentare dando la priorità a quello che per voi è importante in questo momento per quanto riguarda il discorso sentimenti con l'opposizione di venere o è bianco o è nero o è dritto o è rovescio o funziona o non funziona o sei con me o sei contro di me e se parliamo di rapporti che sono solidi allora si può parlare di un grande momento dove la bilancia andrà incontro all'ufficializzazione di tante cose progetti nuovi che partono relazioni che incominciano proposte di matrimonio di convivenza di presentare magari per la prima volta il partner agli amici ai parenti e quindi si parla di prime esperienze di prime volte importanti e di ufficializzazione del rapporto ma se parliamo invece di una coppia che non è coppia di un rapporto che non appaga più di una situazione che non sta più funzionando e che vi porta a sentirvi in bilico ecco che con questa settimana saltano i tappi e quindi vedremo una bilancia prendere delle decisioni o attuare delle contromisure risolutive e decisive per quanto riguarda il discorso single con questa venere in opposizione sicuramente avrete avrete la possibilità di crearvi delle nuove e potentissime connessioni con persone che hanno anche voglia di costruire e si può parlare di un momento molto importante soprattutto a inizio settimana e poi tra giovedì e venerdì fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollici in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno dello scorpione o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale lo scorpione da questa settimana troverà grazie alla congiunzione di marte e con saturno nel segno amico dei pesci troverà finalmente il coraggio di sviluppare qualcosa di nuovo ma anche di abbracciare un cambiamento che è più allineato al proprio concetto di trasformazione e di evoluzione sentirete proprio l'urgenza di sviluppare magari qualcosa di nuovo di mettervi alla ricerca di un qualcosa di nuovo e questo e questa potente congiunzione vi invita a proprio a investire sulle vostre capacità sulle vostre risorse per ottenere più conferme da parte degli altri e quindi cambierete anche un po' l'atteggiamento un atteggiamento che vi porterà a dire no io voglio conquistare questo il mio ruolo nel mondo deve essere questo e questo lo devono vedere gli altri devono vedere quali sono le mie capacità le devono riconoscere e quindi là dove non c'è la possibilità di ottenere delle conferme perché che ne so nel lavoro è già tutto prestabilito quello è il vostro ruolo da lì non se ne esce ecco che c'è la la possibilità che da questa settimana si mescheranno dei meccanismi che vi porteranno a guardarvi un po' fuori con più convinzione con coraggio anche se si parla di rapporti professionali di vecchia data situazioni che magari anche di comodo perché magari fa tanto comodo stare lì dove alla fine del mese arrivano sempre i soldini ma se vi sentite insoddisfatti non del tutto appagati se vi sentite ben lontani dall'ottenere quello che vi spetta ecco che da questa settimana sentirete forte l'impulso nell'andare a cercare qualcosa di meglio qualcosa di più bello qualcosa di più appassionante e di coinvolgente e la luna che diventa nuova invece nel segno dell'ariete ci parla invece di un di uno scorpione che sente la necessità di riprendere anche un po' in mano il controllo e la gestione del proprio corpo del proprio benessere della propria salute e quindi non escludo che questa possa essere anche un'ottima settimana per incominciare una dieta o per allontanarsi da tutto quello che si è cronicizzato e che vi fa stare male o che non vi o che crea una dipendenza e quindi ci sono delle grandi novità da questa settimana la settimana si apre proprio con una luna di transito nel segno dell'ariete che diventa nuova in eclissi proprio in questo spazio zodiacale e si chiude un po' quel portale che si è aperto il 25 di marzo quando la luna è diventata piena nel segno della bilancia e questa configurazione del cielo ci parla sia di ruolo che deve avere nel mondo il nostro scorpione ma anche di disponibilità e quindi là dove lo scorpione è troppo disponibile si piega troppo aiuta troppo senza ottenere nulla in cambio ecco che da questa settimana vedremo uno scorpione chiudere gli rubinetti della propria disponibilità e che penserà molto di più a se stesso la giornata di lunedì avrà delle frequenze ancora un po' impegnative che hanno il compito di mostrarvi che hanno il compito proprio di mostrarvi esattamente dove state investendo male il vostro tempo affinché possiate porre rimedio a questa situazione e quindi non escludo che a livello energetico la giornata di lunedì possa essere ancora un po' impegnativa faticosa e che sentite proprio il bisogno di benessere di avere un maggiore controllo anche della gestione del vostro tempo la giornata di martedì soprattutto nella tarda mattinata mercoledì e la primissima parte della giornata di giovedì sarà dettata invece dall'opposizione della luna sono giornate dove possono nascondersi delle opportunità da cogliere ma dove possono anche arrivare delle conferme importanti per voi che vi aiuteranno a ottenere qualcosa qualcosa nel lavoro o anche un feedback positivo che innescherà poi un cambiamento di atteggiamento da parte vostra e che vi porterà magari ad esplorare qualcosa di nuovo e quindi un'ultima conferma che vi farà dire bene qui sto perdendo tempo dobbiamo correre ai ripari e quindi devo trovare qualcosa che è più allineato anche alle mie curiosità alle mie capacità e ai miei talenti le giornate che invece vanno da giovedì pomeriggio tutto venerdì e la primissima parte della giornata del sabato saranno invece dettate dal transito della luna nel segno dei gemelli e quelle sono proprio le giornate che faranno detonare i vostri nuovi desideri e che vi porteranno a intraprendere con coraggio anche lo sviluppo di cose nuove ambiziose e che vi faranno anche uscire dalla vostra zona di comfort per esplorare qualcosa di più allineato a voi con quelle che sono le vostre capacità e i vostri talenti il fine settimana è molto bello con la luna di transito nel segno del cancro che ci parla di piccoli spostamenti di viaggetti e di esperienze che condividerete o con i familiari o con gli amici e che parlano proprio di di emozioni che vi faranno sentire al sicuro con gli altri per quanto riguarda il discorso sentimenti venere in questo momento nel segno della riete porta le prime prove su strada mette le prime prove su strada da superare per le coppie che sono appena nate e per le coppie di vecchia data invece si parla di un momento molto importante dove bisogna mettere un po' in discussione i ruoli all'interno della coppia io faccio questo tu fai quello però è anche giusto venirsi incontro trovare un punto di incontro e quindi capire un po' come far funzionare le cose anche alla luce di tutte quelle problematiche esterne da affrontare quindi fare un gioco di squadra in questo momento è la cosa migliore per quanto riguarda invece il discorso single con questa posizione di venere io non vi vedo ancora del tutto pronti perché ci può parlare anche di un momento di pausa per guarire magari da una delusione da una delusione recente o da una situazione che deve cambiare nel vostro atteggiamento nei confronti degli altri quindi se non vi sentite ancora del tutto sicuri prendetevi ancora tutto il tempo che vi serve se invece vi sentite sicuri con questa venere potreste attirare delle persone che non sono sicure di quello che vogliono e quindi cercate di anche voi capire quanto investire e se il gioco vale la candela fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollici in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno del sagittario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale questa sarà una settimana decisiva per il sagittario un sagittario che con questa congiunzione tra Marte e Saturno nel segno dei pesci quindi una quadratura che magari per altri astrologi viene interpretata come se fosse l'apocalisse in realtà questa congiunzione è quella che vi aiuterà a dire basta a tutte quelle situazioni che vi trattengono per la giacchetta impedendovi di andare incontro alla vostra vera affermazione alla vostra anche nuova identità alla luce di tutti quei cambiamenti di tutte quelle situazioni che avete affrontato nel corso dell'ultimo anno nel momento in cui Saturno è entrato in quadratura nel segno dei pesci e quindi cominciano a a rivelarsi tutte quelle situazioni che vi impediscono di raggiungere anche la vostra piena autonomia di sentirvi del tutto appagati realizzati e questo può riguardare la famiglia può riguardare un lavoro può riguardare un rapporto un rapporto che è diventato tossico e quindi tutto quello che vi sta trattenendo verso il basso vi sta trascinando verso il basso e da questa settimana avrete finalmente il coraggio di cambiare atteggiamento ma soprattutto di affrontare a muso duro il problema per superare così l'ostacolo e liberarvi delle catene che vi stanno trattenendo al suolo e per certi versi vedremo un sagittario completamente diverso scendere in campo cosa che può anche spiazzare temporaneamente quelli che vi conoscono perché magari non vi riconoscono più e se invece avete avuto delle problematiche connesse alla casa al nido alla famiglia al ruolo nella propria famiglia il non riuscire a gestire tutte queste problematiche ecco che si innescano dei meccanismi che da questa settimana vi porteranno a trovare finalmente una soluzione saltando però facendo saltare però qualche tappo che è necessario riportare un po' di armonia laddove si è creato un problema e che dire invece della potentissima luna nuova che si forma nel segno dell'ariete una luna che accende anche la vostra curiosità i vostri talenti che vi indica la strada giusta per voi da percorrere per legittimarvi e quindi è una luna che vi regala anche un'estrema un'enorme visibilità grazie alla quale potreste cogliere anche delle nuove opportunità e ottenere così finalmente dei riconoscimenti da parte di chi vi può aiutare a scalare finalmente la vetta la settimana si apre con una luna di transito nel segno proprio dell'ariete che diventa nuova in eclissi nella giornata di lunedì 8 aprile e quella è una giornata che può portarvi a ottenere delle conferme può aiutarvi a individuare dove sta davvero il vostro talento su cosa investire davvero nel corso del prossimo futuro perché vi porterà ad avere delle garanzie nuove e tutto questo naturalmente vi aiuterà non solo a ottenere visibilità ma sentirete proprio dentro di voi crescere un'urgenza un qualcosa su cui dovete incominciare a investire davvero e può essere magari il risveglio di un talento può essere il risveglio di un progetto che avevate messo da parte insomma lunedì sarete molto ispirati nel fare qualcosa di nuovo date retta i segnali e se dovete fare delle richieste muovetevi proprio nella giornata di lunedì per quanto riguarda invece le giornate che vanno da martedì nella tarda mattinata tutto mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì saranno delle giornatine un po' stancanti a causa della luna nel segno del toro che però hanno il compito di portarvi magari ad assumervi anche delle responsabilità o degli incarichi o a gestire degli incarichi nuovi delle richieste nuove che vi porteranno ad emergere agli occhi di chi vi può aiutare a ottenere delle conferme in ambito professionale potrebbero esserci però in quelle giornate delle difficoltà nel capire un attimino quali sono le priorità i ruoli le scadenze le cose da portare a termine quindi lavorate per priorità quindi date la precedenza a quello che è più importante e poi subito dopo incominciate a fare il resto le giornate che vanno invece da giovedì nella tarda mattinata tutto venerdì soprattutto e la primissima parte della giornata del sabato sono le giornate che fanno saltare i tappi che vi portano ad affrontare con coraggio tutte quelle dinamiche che vi stanno trattenendo verso il basso e quindi lì dovrete anche prendere delle decisioni fare delle scelte mettere dei puntini sulle i tratteggiare una linea di confine di demarcazione e mettere in chiaro delle cose ottime sono anche quelle giornate per ottenere dei feedback positivi se avete fatto dei colloqui o per ricevere proprio delle proposte nelle candidature per quanto riguarda invece il fine settimana la luna di transito nel segno del cancro vi porterà a sentire forte il bisogno di decelerare un attimino di mettere un po' in stand by anche il mondo esterno per riposarvi e per dedicarvi ai vostri interessi o affetti per quanto riguarda invece il discorso sentimenti la presenza di venere nel segno amico dell'ariete riaccende l'entusiasmo la caldaia dell'eros e quindi questo è un grande momento anche di nuove intese con il partner e di nuovi progetti importanti da realizzare nel futuro con il partner si può parlare di convivenza si può parlare di proposte importanti nel rapporto che sbocciano proprio sotto questo bellissimo cielo di aprile e si può anche parlare di nuovi bisogni che vi portano magari ad allargare il nido a pensare a un figlio insomma questo è un momento particolarmente fecondo se invece siete single beh aspettatevi qualche dichiarazione inaspettata o farete voi delle dichiarazioni inaspettate perché sentirete forte un'emozione nuova crescere dentro e questa venere naturalmente vi facilita anche a crearvi delle nuove connessioni siete particolarmente visibili appetibili e tutto questo vi aiuterà naturalmente a far nascere nuove relazioni le giornate più feconde saranno quelle di lunedì e poi ancora giovedì e venerdì fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno del capricorno per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale dunque con la luna che diventa nuova nel segno dell'ariete si chiude quel portale energetico che si è aperto il 25 di marzo quando la luna è diventata piena nel segno della bilancia e termina così anche uno dei momenti di maggiore fragilità del nostro capricorno un capricorno che ha finito di costruire il suo guscio di mettere il suo guscio nuovo e quindi da questa settimana vedremo un nuovo capricorno scendere in campo per legittimarsi e quindi termina anche quel momento quella fase magari un po' più delicata e più problematica che vi ha portato ad assumervi delle responsabilità in famiglia a gestire magari delle situazioni a livello professionale molto sfidanti o a ad avere delle difficoltà per quanto riguarda il nido e la casa e da questa settimana appariranno nuove soluzioni che vi porteranno ad avere anche delle conferme molto importanti per quanto riguarda invece il discorso congiunzione tra Marte e Saturno nel segno dei pesci vedo un capricorno molto più risoluto nel imporre le proprie idee e che con coraggio farà anche delle affermazioni questa settimana che possono anche un po' spiazzare gli altri potrebbe dire delle cose che ha trattenuto per lungo tempo un'opinione un parere potrebbe veramente cambiare opinione o prendere delle attuare delle contro misure che lasceranno un po' spiazzati gli altri ma che si riveleranno particolarmente utili per aiutarvi a raggiungere i vostri scopi quindi non preoccupatevi di tutti i possibili cambiamenti che possono innescarsi proprio da questa settimana la settimana si apre con quella luna di transito nell'ariete che diventa nuova nella giornata di lunedì 8 e che porta ancora un pizzico di fragilità ma sarà anche l'ultima giornata di fragilità perché poi il guscio nuovo diventa molto più resistente e quindi non escludo che se siete alle prese con delle delicate trattative in una compravendita o avete dovuto gestire delle situazioni molto sfidanti in ambito familiare o nei rapporti in generale ecco che quella giornata vi mostrerà tutto quello che deve essere che deve cambiare e che deve essere rinforzato affinché possa garantirvi una maggiore stabilità nel tempo e l'umore nella giornata di lunedì può essere ancora un po' sottotono e questa giornata di lunedì prendetela ancora un po' con le pinze o con le dovute precauzioni poi però martedì qualcosa cambia ed è la luna che irrompe nel segno del toro e le giornate di martedì nella tarda mattinata tutto mercoledì soprattutto e la primissima parte della giornata di giovedì con la luna nel toro vivrete una fase di grande recupero emotivo e tenete d'occhio queste giornate perché soprattutto per voi del capricorno saranno molto importanti perché vi anticipano un nuovo andamento che si verificherà dal 19 in avanti quando anche il sole entrerà nel segno del toro e quindi ci possono essere delle anticipazioni in quelle giornate possono incominciare a prendere forma delle cose che svilupperete dal 19 in avanti e possono essere proprio dei segnali che portano anche buon umore e la voglia di riprendere in mano la vostra vita e se dovete fare delle richieste muovetevi proprio in quelle giornate le giornate invece che vanno da giovedì nella tarda mattinata tutto venerdì e la prima parte del sabato saranno invece dettate dal transito della luna nel segno dei gemelli e quelle sono le giornate dove vedremo un capricorno che non trattiene più che dice le cose come stanno che andrà un po' a sorprendere anche le persone attorno a lui perché tirerà fuori delle cose anche in modo del tutto inaspettato e come si suol dire la lingua non ha le ossa ma le rompe e quindi troverete anche un po' il coraggio di ribellarvi a uno status quo che vi è stato imposto e che non funziona per voi anche nel anche nel concetto di ruolo che deve avere il capricorno quelle sono giornate dove direte uè allora dove stiamo andando che cosa sono che cosa faccio qual è il mio contributo qual è il mio ruolo all'interno di questo sistema o di questo rapporto e poi nel fine settimana la luna in opposizione vi porterà a sentire forte il bisogno di fare qualcosa di diverso di uscire dalla da uscire dallo schema dalle abitudini per condividere qualcosa di interessante con gli altri per quanto riguarda il discorso sentimenti la quadratura di venere nel segno dell'ariete ci parla soprattutto in coppia del bisogno di fare un ottimo gioco di squadra con il partner e io ci vedo in questo momento traslochi cambiamenti per quanto riguarda la casa ma questa è una venere che porta anche la soluzione di tanti problemi che avete dovuto gestire in coppia nel corso delle ultime settimane e quindi questo è un momento dove incominciano a sciogliersi i nodi ma ora più che mai bisogna fare un ottimo gioco di squadra con il partner se invece parliamo di un capricorno che è in un rapporto ma non è una coppia ecco che da questa settimana possono saltare un po' i tappi soprattutto a inizio settimana e verso la fine per quanto riguarda il discorso single io non vi vedo ancora del tutto pronti ad abbracciare altre persone e questo però può essere un momento di preparazione del terreno dove potreste anche incontrare delle persone che vi traghettano a un altro appuntamento ed è un appuntamento che voi vivrete tra la fine del mese di aprile e soprattutto nel mese di maggio fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno dell'acquario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale grazie alla luna che diventa nuova questa settimana nel segno dell'ariete incominciano finalmente ad aprirsi delle porte o dei portoni per il nostro acquario soprattutto nelle proposte di tipo professionale nelle candidature ma anche nello sviluppo dei nuovi progetti negli incontri che farete che saranno determinanti per aiutarvi a raggiungere finalmente i vostri scopi ma è anche una settimana dove si creano delle situazioni anche inaspettate con poco preavviso e che vi portano su nuove strade da percorrere che magari non avevate minimamente considerato o preventivato quindi fatevi anche un po' stupire da questi piacevoli cambiamenti da queste situazioni che si possono creare proprio da questa settimana per quanto riguarda invece il discorso congiunzione tra Marte e Saturno nel segno dei pesci qui si parla di un cambio di atteggiamento da parte del nostro acquario che diventa più sicuro delle proprie capacità su cui bisogna investire e quindi si parla anche di nuove priorità di nuovi bisogni di nuove garanzie e vedremo così scendere in campo da questa settimana un acquario che tenderà a difendere il proprio spazio vitale ma soprattutto che con coraggio incomincerà a investire sulle proprie capacità lasciando a bocca aperta alcune persone che ruotano attorno alla vostra vita proprio nelle scelte e nelle decisioni la settimana si apre con una luna di transito nel segno della riete dove diventa nuova in eclissi e si chiude quel portale che si è aperto il 25 di marzo quando la luna è diventata piena nel segno della bilancia e quindi si chiude quel portale anche per chi ha in corso delle delicate trattative e quindi non escludo che nella giornata di lunedì possano arrivare tutte le risposte che vi porteranno magari a mettere poi la firma su un nuovo contratto a prendere una decisione importante così come possono anche apparire all'orizzonte degli importanti stimoli o cambiamenti che vi faranno cambiare rotta anche nello sviluppo di un progetto che è in atto proprio in questo momento che avrete la possibilità di rivedere di riorganizzare meglio anche le vostre idee quello che può succedere anche lunedì è che riceverete da parte del cosmo uno strumentino che vi aiuterà a risolvere un problema facendo così anche un'ottima figura da parte di chi vi può aiutare a raggiungere un livello più alto a livello professionale ma se dovete fare delle richieste se dovete smuovere delle cose potete utilizzare questa giornata per mettere in circolo un'energia positiva che vi aiuterà ad agganciare dei consensi la giornata di martedì soprattutto nella parte soprattutto dalla tarda mattinata di martedì mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì sono giornate dettate dalla quadratura della luna nel segno del toro dove sta anche per crearsi la congiunzione tra giove e urano ora quelle giornate sebbene in quadratura quindi l'umore può essere un po' ballerino un po' distonico vi porteranno delle anticipazioni di quello che andrete a vivere soprattutto dalla prossima settimana quella che va dal 15 in avanti quindi tenete gli occhi aperti cercate di capire un attimino come può girare il fumo in quelle giornate perché tutto quello che si smuove in quelle giornate vi farà compagnia nel corso del prossimo mese le giornate poi di giovedì nella tarda mattinata tutto venerdì e la prima parte della giornata del sabato saranno dettate dalla presenza della luna nel segno amico dei gemelli e quelle sono giornate dove stupirete le persone attorno a voi e le lascerete un po' di stucco prendendo delle posizioni anche inaspettate o prenderete delle decisioni per quanto riguarda magari lo sviluppo di un progetto o il decidere di investire sulle vostre capacità sono anche giornate che vi porteranno ad essere notati ad essere visibili e quindi non escludo che possano arrivarvi anche delle conferme importanti poi però nel fine settimana la luna transiterà nel segno del cancro e questo andrà leggermente a influire sul vostro umore ma soprattutto sul vostro stato psicofisico e quindi sentirete anche forte il bisogno di decelerare un attimo di rallentare e di chiudere un po' il mondo fuori con i suoi tumulti per quanto riguarda il discorso sentimenti la presenza di venere nel segno della riete vi aiuta se siete single a crearvi delle importanti connessioni con nuovi personaggi e tutto quello che nasce di nuovo sotto questo bellissimo cielo può anche durare nel tempo se invece parliamo di relazioni questo è un momento importantissimo per incominciare a lavorare allo sviluppo di un progetto nuovo ma anche di ritrovare con il partner quella voglia di lavorare in squadra quella voglia di di magari dedicarsi insieme a un progetto a un hobby agli interessi comuni ci vedo tanto gli amici ci vedo tanto le iscrizioni da qualche parte per crearsi anche delle connessioni nuovi che portano un po' più di leggerezza se invece parliamo di un rapporto che è un po' in bilico che è un po' traballante ecco che vedremo un acquario questa settimana che non trattiene più niente e quindi dirà le cose come stanno prendendo anche delle decisioni in coppia mi sono dimenticato di dirvi questo è un momento molto stimolante e importante anche per i cambi di casa e i traslochi fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno dei pesci o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale allora probabilmente arriverete già terrorizzati ad ascoltare questo video perché la congiunzione che si forma tra marte e saturno nel vostro spazio zodiacale può essere interpretata in tanti modi a me piace pensare che questa congiunzione vi porterà a trovare finalmente il coraggio di dire basta basta a tutti quei sopprusi basta a tutte quelle dinamiche che avete subito basta a tutto quello che si è allontanato così tanto da voi e che state trattenendo inutilmente basta alle cattive abitudini basta a tutte quelle cose che vi stanno allontanando dal vostro vero progetto di vita e quindi per certi versi questa può essere una settimana dove vedremo i pesci cambiare completamente atteggiamento e a scendere in campo per legittimarsi rompendo così tutte quelle catene che vi hanno trattenuto al suolo impedendovi di raggiungere il vostro vero obiettivo e quindi anche per tutti quei pesci che hanno subito delle ingiustizie per tutti quelli che hanno magari avviato delle battaglie legali per difendersi per tutti quelli che hanno magari messo da parte delle cose per accontentare gli altri per non creare troppo disturbo per non alterare degli equilibri ecco che da questa settimana salteranno completamente in aria i tappi e quindi avrete la possibilità di scendere in campo per trovare finalmente una soluzione cambiando così il vostro atteggiamento e c'è anche una potentissima luna che diventa nuova nel segno dell'ariete quindi nella vostra seconda casa ed è una luna che spinge parecchio sul farvi ottenere delle conferme ma è anche una luna che accende le vostre nuove priorità che vi porta ad avere delle urgenze nuove da realizzare per voi ad avere più conferme di tipo economico di tipo personale e quindi questo da questa settimana manderete in detonazione tante cose che vi porteranno a ottenere finalmente quello che vi spetta anche a costo di far saltare in aria tutto quello che avete trattenuto e che è diventato tossico che è diventato invalidante che non vi consente di muovervi in modo libero e autonomo la settimana si apre proprio con una luna che diventa nuova in ariete e può essere una giornata quella di lunedì dove vi arrivano delle prime conferme importanti o dove prenderanno forma quegli impulsi e quegli stimoli che vi porteranno a incominciare a delimitare la zona a dire questo è mio e questo è tuo questo è il mio spazio non devi entrare qui perché di questo mi occupo io quello lo fai tu o a mettere in chiaro anche determinate cose non solo nei rapporti ma in quelle che sono poi le vostre vere necessità e quindi è un inizio di settimana molto importante soprattutto nelle trattative che e nelle richieste che avete già fatto se nel corso degli ultimi 15 giorni avete smosso delle cose ci può essere la possibilità di ottenere un aumento di stipendio riuscirete finalmente a parlare con il vostro capo con il vostro superiore con le risorse umane nel mettere in chiaro proprio delle cose e possono nascere così anche i vostri nuovi bisogni le vostre nuove urgenze i vostri stimoli che creano delle spinte molto importanti le giornate invece che vanno da martedì nella tarda mattinata tutto mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì saranno dettate dal transito della luna nel segno del toro sono giornate dove io vi invito a captare i segnali a vedere come si sbloccano le cose cosa vi arriva sotto forma di notizia potreste anche utilizzarle per candidarvi agli annunci di lavoro o per dire delle cose smuovere delle cose in una direzione ben precisa perché queste giornate racchiudono portano un'anteprima di un qualcosa che vivrete da dopo il 19 di aprile in avanti quindi se volete smuovere le cose strategicamente fatelo proprio in quelle giornate poi però giovedì nella tarda mattinata tutto venerdì e la prima parte della giornata del sabato saranno dettate dalla quadratura della luna nel segno dei gemelli ed è lì in quelle giornate che saltano in aria i tappi che vedremo un pesce scendere in campo per ribellarsi a tutte quelle situazioni che lo hanno trattenuto per la giacchetta che hanno rappresentato un ostacolo un impedimento e peraltro sono anche delle giornate dove emotivamente vi sentirete anche più strapazzati e quindi con Marte nel vostro segno potreste prendere un po' tutto troppo sul personale agire di impulso mostrare un qualcosa che non siete ma ricordatevi che se è necessario bisogna scendere in campo e mettere a posto e affrontare le cose ed è proprio in quelle giornate che troverete il coraggio di dire basta a quello che è diventato tossico a tutto quello che avete dato priorità sottraendo a voi lì si fa tabula rasa e le giornate però del fine settimana andranno a sciogliere i nodi questa luna nel cancro riporterà un riequilibrio e un'armonia e vi aiuterà anche a sistemare le cose se si sono alterati degli equilibri nelle giornate precedenti e nel fine settimana farete anche delle esperienze molto interessanti per quanto riguarda il discorso sentimenti venere nella riete vi rende iper protettivi protettivi o verso di voi o verso proprio il partner e quindi potreste essere un po' gelosi potreste tracciare delimitare un po' troppo dei confini così come potreste anche borbottare e lamentarvi parecchio se il partner non riesce a stare al passo con le vostre richieste ma se parliamo di coppie che stanno bene ecco che questa venere vi aiuta a costruire a mettervi alla ricerca anche di un settore di un terreno che possa garantirvi una maggiore stabilità nel tempo e tutto quello che ha a che fare un po' con la casa la famiglia i traslochi è un po' il comune denominatore di questo momento in coppia single potreste essere troppo selettivi in questo momento o iper protettivi nei vostri confronti quindi dovete imparare da questa settimana ad ascoltare l'altro oltre a mettere in chiaro quali sono le vostre vere necessità dovete imparare ad accogliere l'altro non andando armati fino ai denti ai primi appuntamenti perché il rischio è quello di spaventare le altre persone ad ogni modo si creano delle condizioni questa settimana nelle giornate di lunedì e poi ancora nelle giornate di fine settimana che possono agevolarvi nel crearvi delle connessioni tenetele lì per il momento non entrate a gamba tesa quando avete più chiarezza di quello che volete e di cosa sono disposti a dare gli altri allora agite e scendete in campo fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io auguro a tutti una splendida settimana stellare e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.